ciao a tutti e bentornati sul canale di guadagnare online con le criptovalute questo è l'ennesimo video del 2019 perché abbiamo cominciato decisamente presto ci sono sempre un sacco di novità da proporvi quindi partiamo subito ma prima di tutto vi ricordo l'iscrizione al canale che è fondamentale se non volete avere la dissenteria se voi vi iscrivete al canale non avrete dissenteria per tutta la vita quindi vi consiglio di iscrivervi o altrimenti comprate una fornitura annuale di carta igienica dai scherzi a parte date un'occhiata anche ai video che trovate sul mio canale e sicuramente troverete qualcosa che potrà interessarvi ma passiamo all'argomento della serata questa sera parleremo di fresh apps fresh waps scusate allora praticamente faccio il logout ok anzi prima ve lo faccio vedere da all one tool praticamente all one tool come già spiegato nei precedenti video è un bot che praticamente vi permette di raccimolare soldi da più piattaforme ptc le ptc sono pay to click ovvero cliccare per su dei link per guadagnare con le pubblicità che si guardano ma noi che siamo dei pigroni non andremo a cliccare un bel niente se non su questo pulsantino che io adesso andrò a cliccare in questo momento come vedete questi sono i vari siti ai quali mi sono iscritto e che ho inserito in questo bot e in questo momento mi sta controllando se ci sono delle pubblicità da da visualizzare in questo momento vedete books clicks ne ha 40 da vedere free time clicks ne ha 73 e via dicendo ma noi ci interessa stasera fresh waps praticamente ero arrivato a 66 dollari e 92 centesimi come vedete qua il totale in questo momento è di 37 dollari ok io avevo 6 dollari e 92 centesimi e ho prontamente effettuato il ritiro quindi andiamo sul sito dobbiamo ovviamente registrarci con il nome l'indirizzo email la conferma dell'indirizzo email un username la password la conferma della password e dobbiamo scrivere poi le lettere che ci escono qui per superare appunto il capsca dopo di che clicchiamo su questa casellina per confermare di aver letto i termini di registrazione e procediamo con un click su registrare io ovviamente faccio il login perché sono già registrato ok stiamo per entrare dentro eccoci qua praticamente questa è la dash la nostra dashboard ovvero ciò che ci appare nel nel momento in cui entriamo su questo sito andiamo subito a vedere la parte più importante che ci interessa che è questa pagamento ricevuto 6 dollari e 63 quindi praticamente c'è una piccola commissione da pagare quindi avevo 6 dollari e 92 e ci vengono accreditati 6 dollari e 63 ma andiamo a vedere su payer perché appunto io ho effettuato il ritiro su payer come vedete mi ritrovo 6 dollari e 70 aspettate faccio un refresh 4 gennaio 2019 6 dollari e 63 quindi il pagamento è avvenuto e tra l'altro è un sito che ci fa visualizzare abbastanza pubblicità quindi lo considero decisamente interessante e vi invito a effettuare l'iscrizione gratuita l'unico cavillo diciamo è che per poi effettuare il ritiro su freshwaps praticamente dobbiamo fare almeno un deposito di 2 dollari io l'ho effettuato e ho richiesto appunto effettuato poi il ritiro e i soldi sono arrivati praticamente dopo qualche minuto quindi anche velocissimo come ricezione del pagamento vediamo se c'è qualcos'altro che può interessarvi allora c'è l'upgrade dell'account per andare a guadagnare un pochino di più quindi praticamente partiamo con un account standard che non ha scadenza non ha scadenza e ci vengono dati il 50 per cento del valore del di ogni click e per il referral ci viene dato il 5 per cento se vogliamo fare un upgrade tutti gli upgrade come vedete durano 30 giorni hanno ovviamente delle differenze di guadagno l'uno con l'altro e il primo piano disponibile da 4 dollari 99 e il secondo 9 dollari 99 hanno durato 30 giorni come dicevo prima e il praticamente il come dire l'upgrade si effettua appunto facendo un deposito tramite payer quindi sia per il ritiro che per effettuare dei depositi bisogna avere payer e vi metterò il link qui sotto al video per potervi iscrivere appunto anche a questo wallet digitale vediamo 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 cosa c'è di altro cosa ci può interessare ancora withdraw history vabbè abbiamo già visto come vedete appunto vi confermo ulteriormente il pagamento avvenuto e a cosa importante dovete andare nel nelle impostazioni quindi su settings personal settings clicchiamo qui praticamente dovete inserire il vostro indirizzo di payer che trovate qui ve lo faccio vedere lo trovate qui basta semplicemente copiarlo e andarlo a incollare questo per far sì che appunto il pagamento avvenga non c'è altro da aggiungere vediamo qua cosa succede qua abbiamo già finito non c'è altro da aggiungere quindi niente ci ci vediamo al prossimo video vi auguro a tutti una buona serata e nuovamente buon anno per chi non avesse visto i video precedenti che vi consiglio di andare a vedere ovviamente ciao ragazzi ci vediamo alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.